Guardo una vecchia foto del 1943, è l'immagine della terza E del liceo Torquato Tasso, dove ho preso la licenza liceale. Manca solo un mese al 25 luglio. In mezzo a noi ragazzi c'è il preside, il cui titolo d'orgoglio era di essere stato il professore dei figli di Mussolini. E' stato lì, al Tasso, che ho percorso gli anni della formazione scolastica. Fu quello il teatro sul quale si è formata la mente di me il ragazzo. E questo mi piaceva. Ma chi erano i ragazzi di allora? Il mondo in cui vivevamo era molto diverso, molto più chiuso nelle pareti familiari. Il nostro modo di vivere non conosceva il fiume dei consumi e dei desideri. Abitavamo case nelle quali non c'erano né tv né dvd, dove anche nelle famiglie borghese si facevano risuolare le scarpe e si ramendavano i calzini. Finalmente si usciva di casa e si andava al liceo. Nuovi orizzonti si spalancavano, non solo si studiava. Io ricordo lo studio come una cosa seria, ma si formava la piena dei sentimenti, delle grandi amicizie tra maschi e della scoperta delle ragazze, sguardi, tremori, timidi e attesi alla fermata del tram, facendo finta di niente. Dove sta il rimpianto? Dopotutto la nostra parte l'abbiamo fatta. Conservo insieme alla prima edizione delle poesie di Pavese questo frammento di uno scritto di Italo Calvino. L'esempio di Pintor, una delle tempere umane più estrane opposte al decadentismo, all'evasione, all'ambiguità morale e che pure veniva da un'educazione letteraria che era quella di tutto il decadentismo europeo, ci testimonia, come in ogni poesia vera, esiste un midollo di leone, un nutrimento per una morale rigorosa, per una padronanza della storia. La vara presenza del bello e del bene, questo è il midollo di leone che Pintor, traduttore di Rilke, lettore di Montale, morse dalla civiltà letteraria che l'aveva preceduto. Questa è la lezione di uno stile che si trasferì nell'azione e nell'intelligenza storica. Di questo midollo del leone c'è un gran bisogno. Se Vittorio Foa fosse ancora vivo e mi rivolgesse di nuovo quella domanda, credevate nella rivoluzione? Io risponderei con questi pensieri. Grazie. 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 Grazie.